ciao a tutti e bentornati in tessiland news quest'oggi parliamo di qualcosa che sicuramente può esservi utile qualcosa che possiamo definire anche indispensabile un raccoglitore di idee e di creatività realizzato sapientemente dalla scrittrice per eccellenza della tessiland vale a dire rosaria ispirata infatti dalle tante richieste arrivate in assistenza misto a fonte immensa di ispirazione come può essere proprio la tessiland è nato il raccoglitore il mio and made analizziamo nel dettaglio ed eccolo qui in tutto il suo splendore il mio and made la creatività a portata di mano un raccoglitore e i cui colori predominanti sono come potete vedere il lilla e il glicine rosaria è stata davvero ispirata senz'altro dalla moda pop e dai colori che sicuramente ispirano davvero tanta creatività ma appunto vediamo questo raccoglitore che misura 20 x 24 della larghezza di circa 4 centimetri eccolo qui e quindi apriamolo e scopriamo insieme che cosa potrete trovare all'interno ovviamente ci sono quattro anelli che potete poi successivamente aprire e chiudere in modo tale da poter inserire tutto ciò che vorrete oppure tirar fuori in maniera davvero molto pratica e veloce la prima pagina e mi presento quindi inserirete i vostri dati compresi anche mail e password dell'account tessiland che è sicuramente molto utile conservare sfogliamo e troviamo qui i social in cui è presente proprio tessiland un meraviglioso calendario 2024 che sicuramente potrà essere utile per programmare i vostri progetti ed ecco qui alcuni progetti che vorreste realizzare qui invece c'è un planner una sorta di programmazione inerente proprio alla vostra creatività poter programmare in base ai giorni della settimana poter quindi anche ricordare ad esempio i nostri appuntamenti con le nostre dirette o le nostre rubriche qui c'è il mio progetto e ci sono tutti gli appunti che potete inserire dall'inizio alla fine le varie fasi determinate note le difficoltà se vi è piaciuto anche una volta concluso realizzarle in modo tale che anche a distanza di tempo poi possiate avere le idee in merito chiare e decidere se riproporlo oppure no dei praticissimi fogli a righe che ovviamente possono essere utili per prendere qualsiasi tipologia di appunto e poi ecco qui una prima indicazione vale a dire condividi con noi lo scatto perfetto per una tua creazione and made quindi consigli pratici su come condividere al meglio le vostre creazioni sulla nostra pagina facebook meglio di maglia oppure sul nostro gruppo troverete anche una pratica ispirazione creativa come il cuscino cactus davvero molto originale una delle richieste che più ci rivolgete in assistenza vale a dire come lavare correttamente una borsa dei originalissimi adesivi stickers come vogliate chiamarli perfetti per chi ama gli adesivi ma anche per chi non li adora questi stickers vi faranno venire la voglia di utilizzarli o magari conservarli e poi dei fogli trasparenti in cui poter conservare l'etichetta ad esempio relative ai filati che avete acquistato etichette che noi consigliamo sempre di conservare proprio affinché possiate ricordare il nome di un filato particolare o magari il numero di partite confrontarlo quindi con quello presente sul sito così da non avere sorprese a riguardo e all'interno ovviamente troverete anche tanti altri fogli a quadretti i cui colori possono sempre variare insomma il raccoglitore di rosaria il mio and made è davvero un meraviglioso mondo colorato studiato su misura per voi e per la vostra passione creativa all'interno di questo raccoglitore possiamo dire c'è davvero tutto ciò di cui avete bisogno dai fogli per prendere appunti agli spazi nei quali inserire le etichette per ricordare le partite progetti come fonte di ispirazione consigli utili tutto ciò che ogni creativo creativa sogna di avere un alleato indispensabile insomma un raccoglitore di creatività fatto in maniera colorata utile ma soprattutto organizzata con il mio and made gli amanti della creatività e della cancelleria potranno finalmente unire queste due passioni e meravigliarsi davanti al raccoglitore ideato da rosaria ma pensato anche soprattutto per voi io vi ringrazio come sempre per averci seguito vi ricordo di seguirci su tutti i nostri social youtube pinterest instagram tik tok facebook di iscrivervi ovviamente sul nostro solo unico ed ufficiale gruppo facebook e noi ci vediamo al prossimo articolo creativo ciao